10 milioni e mezzo di euro per finanziare la realizzazione da parte delle agenzie formative degli interventi formativi LEPF di tipo duale per gli anni scolastici 2021-22-2022-2023-2023-2024 e quanto approvato in giunta regionale continuando a consolidare e rafforzare il sistema duale in campagna con le esperienze di alternanza scuola, formazione e imprese così l'assessore regionale alla formazione armida Filippelli, dinanzi al gravissimo problema della dispersione scolastica sottolinea Filippelli, abbiamo deciso di investire ancora più risorse sul sistema duale per favorire l'occupabilità giovanile e continuare una sperimentazione che in questi anni ha dato risultati molto positivi. In particolare, precisa l'assessore, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per i percorsi LEPF e 540 mila per lo scorrimento della graduatoria dei progetti di percorsi di istruzione e formazione professionali presentati dagli istituti professionali per il triennio 2022-2025. In Italia, ricorda l'assessore, l'istruzione è obbligatoria fino a 16 anni e i ragazzi e le ragazze possono scegliere di proseguire la loro formazione nei percorsi LEPF di competenza regionale, acquisendo quelle qualifiche professionali e diplomi utili ad accedere al mercato del lavoro. È un'opportunità, conclude Filippelli, importante per tanti ragazzi, che contribuisce a frenare la dispersione scolastica. Ovviamente monitoreremo che l'alternanza venga fatta con rigore, trasparenza, con il pieno rispetto nel caso sia svolta nei cantieri di tutte le norme di sicurezza perché non accada mai più quello che è accaduto nei giorni scorsi ad Udine.